Ciao a tutti amici di Eximartor.com e ben ritrovato ad un nuovo video unboxing. Quest'altro abbiamo ricevuto in redazione l'ultimo mouse da gaming della Fnatic Gear, parliamo del Clutch. Anche esso è un mouse dotato di sensore ottico, come il precedente Flick che abbiamo già recensito sul nostro sito. Partendo velocemente dalla confezione, classica confezione di cartone, sulla quale troveremo tutte le informazioni e le immagini illustrative del mouse, qui nella parte frontale, i lati e nel retro. Nel retro troviamo qualche informazione addizionale, aggiuntiva. All'interno della stessa troveremo un Quick Start Guide ed infine il mouse. Come possiamo notare il design del Clutch è abbastanza invariato dal precedente Flick. Troviamo un mouse con una colorazione Total Black, con una finitura soft touch che prende sia la zona superiore sia quella laterale. Le dimensioni lo rendono ideale per una presa di tipo palm grip, fingertip o claw grip. Focalizzandoci nella zona superiore, troviamo a differenza del precedente modello, due tasti per lo switch dei DPI, una rodellina di tipo cliccabile dotata di red illuminazione RGB, quindi potremo variare il colore tramite il software di gestione, e due tasti principali dotati di switch Omron. Spostandoci ora nel lato di sinistra, troviamo due tasti principali, con un buon feedback di plastica e con una finitura lucida. Nella parte leggermente superiore ai due tasti, troviamo dei LED che si illumineranno e ci potranno rendere più agevole sapere a quanti DPI staremo lavorando. Mentre nella parte leggermente più avanzata, troviamo la serigrafia Fanatic Gear, del logo Fanatic Gear. Troviamo anche una scanalatura per il pollice, quindi la presa sarà sicuramente confortevole e naturale. Ci spostiamo nel lato di destra, dove troviamo anche qui una leggera scanalatura, sempre per migliorare il comfort e la presa sul mouse, e la serigrafia clutch, quindi relativa al modello del mouse. Ci spostiamo ora nella parte frontale del mouse, dove possiamo osservare meglio l'ergonomia e il design del mouse stesso. Mentre spostandoci nel lato inferiore, troviamo tre mousefit di buone dimensioni, qualche ulteriore informazione, specialmente un sigillo che ci indica che se verrà rimosso perderemo la garanzia, quindi se dovessimo eventualmente aprirlo, ma siamo sicuri che non lo farete. E nella parte quasi centrale troviamo il sensore ottico, come abbiamo già detto, un PixArt 3013. DPI switchabile da un minimo di 50 ad un massimo di 5000, quindi sicuramente un range adatto per giocatori low sensor o wide sensor. Passando al cavo, è un cavo sempre rivestito in treccia di tessuto, quindi classico, e il connettore USB è placato oro. Con questo è davvero tutto, e rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.eximardure.com, dove troverete come sempre ulteriori immagini, informazioni e test, nonché le impressioni di utilizzo relativi al mouse. Con questo è davvero tutto, un saluto alla staff. Grazie a tutti.